Ciao a tutti, iniziamo con una recensione interessante di un libro che ho letto durante le vacanze di una persona che ho conosciuto, non personalmente, ma attraverso Facebook, sito un po' lesso dirette e quello che lui fa, direttamente ovviamente, Marco Melzani. E ho acquistato il libro, diciamo, quasi a costo zero, solo pagando spese di spedizione, che aveva un ton di copia in anteprima, e ho iniziato così a leggerlo, l'ho anche finito, ovviamente, per quello che sto facendo la recensione, mi sono creato un documento con degli appunti perché c'erano, ci sono delle cose, comunque, per focalizzare bene, meglio, andare e rivedere. Praticamente sono le priorità, perché ho un'attività, io premetto, non ho un'attività, però comunque avere delle informazioni è sempre utile, perché si può sempre, comunque, rivedere la cosa anche nell'ambito personale, visto che, comunque, si parla anche di vendita, e la vendita, qualsiasi cosa si fa, c'è sempre. Questo libro è molto completo, spiega bene anche tutte le parti che riguardano le attività, e poi c'è anche questo foglio che riassume tutti i blocchi, tutte le parti, molto interessante, con degli esempi personali, molto pratico, e poi, che dire, sì, su alcune cose devo dire che mi ti spiega su altre, magari, per esperienza anche personale, magari dire, ma, sì, ok, tu parli di, a livello grande, aziende così, ok, però a livello, magari piccolo, su certe cose, magari, di vendita, ho avuto dei riscontri, diciamo, non proprio positivi, su certi aspetti, però, beh, questa è un'idea personale, lui, ovviamente più esperienza di me, lui ha fatto una formazione, attività, per cui, vabbè, questo è quello, che lui dice, va bene, o prendo, e comunque, ovviamente, come in tutto, c'è sempre qualcosa che mi dice, ma, ok, però, non sono molto convinto, va bene, ok, ci sta, ci sta, a quanto mi riguarda, perché io sono nel piccolo, ma nel grande può funzionare anche bene, nel piccolo, o magari, già meno, comunque, vabbè, lì, si sape tutto fare, tutto uno studio approfondito, tutto, utilizzare delle priorità, eccetera, eccetera, vabbè, noi stiamo qua a dilungarci molto, comunque, mi è piaciuto abbastanza, allora, perché l'ho scelto? La questione è anche, diciamo, di costo, perché, insomma, bisogna sempre prendere le occasioni, no? Sempre riguardando, eh, di partire con budget zero, che è una cosa mia, o quale zero, ecco, e comunque, prenderò degli spunti, sicuramente, darò, comunque, una riguardata agli appunti, così, a focalizzare meglio certe parti, magari, non mi sono bene entrate nella testa, l'ho detto, sono degli esempi personali, ah, poi fa delle parallelismi, non so, tipo, con la pesca, e con le presidili, ecco, cose proprio molto pratiche, ovviamente, è teoria, dopo, se uno, ovviamente, se fare uno studio personal, insomma, da vedere i dettagli, ci sono anche degli esempi, ok, è un libro, ovviamente, non è che ti può dare tutto, e ti dà le informazioni, uno non può mai costruirci sopra, a proposito dei vari guru di marketing, che ci sono una marea, ecco, che ti dettivano tutte queste informazioni, oh, cazzo, l'ha trovato delle cose fondamentali, eccezionali, che rivoluzionano, calma, 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 stiamo calmi, ok, adesso vi saluto, potete contattarmi, per questo, peraltro, comunque, noi ci sentiamo, poi, per altre recensioni, buona giornata, buon rientro al lavoro, anche perché oggi è vacanza, domani si rientra.